L'associazione è un'associazione non a scopo di lucro che si occupa di addestrare i cani per il salvataggio in acqua. A livello nazionale siamo circa 350 unità cinofile che operano in quasi tutte le regioni italiane facendo i servizi di vigilanza sulle spiagge libere. In provincia di Savona siamo noi che operiamo da 4 anni sulla spiaggia libera del Bisola Marina, chiamati dal comune e diamo questo servizio tutto a titolo gratuito perché siamo tutti volontari. Il cane è bagnino però non andrà mai da solo a fare un salvataggio, è sempre l'unità cinofile, il cane è il nostro motore praticamente, ci porta più freschi sul pericolante e poi ci riporta a riva tirandoci senza fare meno fatica di un bagnino tradizionale. Non c'è nessun limite d'età, infatti guardate i miei capelli bianchi, non sono tanto giovane, i miei cani sono tutti entrati in acqua da tre mesi in poi quindi assolutamente non c'è nessun limite. Li facciamo lavorare fino a 10-11 anni, dopodiché li mettiamo in pensione perché è un lavoro pesante. È molto gratificante partecipare a delle attività per cui puoi salvare la vita umana per noi è sempre gratificante, per tutti, penso per tutti quelli che lavorano nell'ambito del salvataggio.